Siamo qua di nuovo in giro per fiere, stavolta all'Extasia a Lugano, con noi Little Caprice. Per quanto riguarda il negozio? Ok, circa 5-6 anni. Quindi diciamo che sei abbastanza esperienza qui. Qual è il tuo progetto per i prossimi futuri? Hai magari qualche progetto come il vostro sito? Quali nuove cose che vengono? Ok, in questo momento lavoro per ixtsat.com ixtsat, la produzione americana. C'è una produzione, sì, ovviamente. Io ho un contratto exquisito con loro, quindi... Nel prossimo ho plane di lavorare con loro, per quanto riguarda possibile. Ok. E poi, chi lo sa, il mio futuro è aperto e sempre voglio provare nuove cose, quindi chi lo sa, non lo sa. Hai un sito? Sì. www.littlecaprice.cz o www.markettastroblova.com Sì. Ok, questo è per gli italiani come questo, che potrebbero riuscire a te vedere? Ok. L'ultimo modo è quello di caprice.cz Ok, perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per quanto riguarda il negozio, cosa pensi del mercato italiano? C'è qualcuno in Italia? Sì, ho molti film in Italia, ho alcuni amici fotografici italiani, e mi piace molto, sono molto temperamenti, ma sempre mi piace sempre e sono qui in Italia. È incredibile. Ragazzi, quindi anche questa volta ci stiamo facendo buona figura, mi raccomando, continuiamo così. Sì. E mi piace pizza, e mi piace pasta, e mi piace cucina. Ok, ma questo non è buono per il tuo corpo. Sì, ma mi piace. Sì, sei perfetto così. Penso che lavoravi molto. Facci qualcosa di fitness? Un po' di più. Sì, sono successo perché ho la mia genetica, quindi ho bisogno di rotto, e non c'è nessuno. Quindi sei davvero successo? Sì, ho successo, ma magari nel futuro ci vediamo come questo. Sì, un po' di più. Grazie per il tuo tempo, i tuoi fan stanno aspettando, quindi non possiamo costruire più tempo. Sì. Buongiorno. Do you want to leave a message for your fans? Yeah, what can I say? Thank you for everything. Thank you very much. Yeah.